A te, che vai sempre oltre la superficie. A te, che sogni un mondo più pulito. A te, che sai cosa significa proteggere. A te, che vuoi sempre poter scegliere. A te, Scavolini dà sempre qualcosa in più, ovunque tu sia. Grieco Mobili, a Lioni, in Contrada Cerrete. Telefono 0827 42522. A te, che vuoi sempre poter scegliere. A te, che vuoi sempre poter scegliere. A te, che vuoi sempre poter scegliere.